Bardonio Roberto, quasi 37 anni e sono l'autore del libro L'uomo che cammina, un romanzo che racconta le vicende accadute tra il 74 e il 75 nella città di Savona e provincia. La domanda fondamentale è perché dopo io che sono nato nell'83 mi sono messo a imbattermi in questa avventura che è arrivata dieci anni prima di me. Principalmente sono due le ragioni. La prima è il fatto che questa storia sia a livello nazionale ma soprattutto cittadino è stata completamente dimenticata. Chiunque la ricordi sono testimoni che l'hanno vissuta 50 anni fa, quindi bene o male, la memoria a volte gioca brutti scherzi, magari un traliccio è saltato dove in realtà è saltato un binario, oppure lì è scoppiata la bomba sotto il portico quando invece è scoppiata nelle caldaie. Ho notato durante la mia, chiamiamola l'indagine, la mia ricerca, molti vuoti. Ho detto no, qui bisogna lavorarci. Come posso fare? Io con i miei umili e mezzo ho scelto la narrativa. Ho deciso di scrivere un giallo in cui il nostro protagonista è l'uomo che cammina. Il protagonista è il negativo, è praticamente l'individuo che durante la narrazione metterà in scompiglio la città di Savona. A contrastare o almeno a cercare di contrastare questo soggetto misterioso è il commissario Pierandello. Queste sono le due figure che portano avanti la narrazione del romanzo. La seconda ragione per cui ho voluto raccontare questa storia è il fatto che purtroppo o per fortuna le bombe di Savona hanno lasciato purtroppo una vittima. Lasciato proprio nel senso, lasciato dimenticata perché è una delle tante domande che mi vengono poste. Ma perché queste bombe sono state dimenticate? Perché questa donna, questa vittima? Purtroppo se fossimo magari… Mi dicono perché Bologna la ricordiamo? Ragazzi però a Bologna abbiamo a che fare con una strage, 80 vittime, a Ustica stessa cosa. Forse il problema di Savona è stato innanzitutto per quanto riguarda la vittima che è stata una sola, quindi purtroppo è brutto dirlo ma non fa clamore. Però purtroppo le bombe ci sono state e anche la vittima e questo è un altro motivo per cui ho voluto scrivere questa storia, il fatto che fosse giusto raccontare anche la storia di questa persona. Un attimo parlando, la storia si inizia nella sera del 30 aprile del 1974 quando all'improvviso nella via, in una delle vie principali di Savona esplode un portone. Boom! Fuga il gas, bomba! al momento non si sa. Quando arriva il nostro protagonista, il commissario Pierandello, sente già odore di marcio, dice cavolo qui avrò un po' di… una bella gata da pelare, perché in quel momento in Italia abbiamo a che fare con bombe, stragi, tentati golpi. Savona per fortuna in quel momento era un'isola felice e Pierandello è ben felice di questa isola felice. Il fatto che scoppi questa bomba lo mette un po' sull'allerta. In più, questa bomba non è scoppiata in un palazzo qualsiasi, ma nel palazzo del senatore Storti, un nome autorevole nel mondo politico savonese e abbastanza nazionale. Sulle prime si inizia a pensare a una fuga il gas, anche se gli addetti al lavoro sanno che è stata una bomba. Ufficialmente passa la storia della fuga il gas. Pierandello è molto felice di questo, se ne si rilassa, torna nella sua vita tranquilla e via. Il problema è che l'uomo che cammina non ha neanche iniziato, ha deciso che ha un piano, un piano che scopriremo durante la narrazione. Inizia a mettere bombe. La seconda bomba alla centrale è nel divado in agosto e poi una terza a novembre. La terza di novembre è molto importante perché è il momento in cui Pierandello non può più far finta di non vedere, di non capire che c'è un filo rosso e il contraltare è il momento in cui l'uomo che cammina dichiara guerra a Savona. In questo momento partono da novembre in poi, in quel mese, sette esplosioni, potenzialmente tutte mortali, che poi per fortuna o purtroppo sono il risultato dell'ottimo lavoro dell'uomo che cammina, che ha un obiettivo, un scopo che il nostro povero Pierandello deve riuscire a capire. Per riuscire ad arrivare alla soluzione, se mai arriverà alla soluzione in questo caso, è, come spalla, il colonnello Aonzo. Aonzo è un soldato, un uomo serio, degerno. Lui vuole raggiungere l'obiettivo fin dalla prima bomba, lui sa che c'è qualcosa che non va. E sprona il povero Pierandello che dice, beh, c'ho lui, lasciamo lavorare il colonnello, meglio, meno lavoro per me. Perché questo? Perché Pierandello può sembrare un fanfarone, uno sì, vabbè, dai, ma la vita, ma la prendo così, no. In realtà purtroppo ha un problema familiare abbastanza importante, abbastanza comune, ma purtroppo il suo matrimonio è in crisi. La donna che ama ormai non lo ama più, ci sono vicissitudini e per sfuggire da questa situazione familiare a casa e per sfuggire dalla situazione lavorativa, spesso e volentieri lui si affida alla sua rubrica piena di donne, sempre pronte per fare l'amore. Quindi il quadro generale di Pierandello è questo. Ho scelto questo personaggio così perché volevo un bello, ma simpatico, non un bello dannato, cupo, no. Lui è uno che ti fa la battuta, ogni volta che vede a onzo, fa segni scaramantici, lo prende per il sedere, cioè è un tipo molto attivo, ma nasconde questo lato oscuro e il fatto che poi purtroppo abbia a che fare con questo soggetto, chiamiamolo, lo metterà a dura prova, portandolo poi a non si saprà, oppure si saprà. Perché dico non si saprà o si saprà? Perché uno può dire, ah aspetta mi vado a vedere i giornali dell'epoca, dico ah ok facile, vediamo chi hanno arrestato. Bene, questa storia ha 47 anni e a tutt'oggi non ci sono colpevoli. Per quanto ne sappiamo può essere stato Donald Trump, Batman, non c'è un colpevole reale. Purtroppo in tutta questa storia, sia nella realtà, soprattutto nella realtà. Le indagini sono state lente, bagliate, perché non hanno portato un risultato. Questa cosa qua nel momento della stesura del romanzo mi ha fatto un po' pensare, ho detto lascio il finale aperto, lascio il finale chiuso. A chi do la colpa? Cioè ho bisogno di un antagonista e ho deciso di imbrigliare tutte le teorie sulle bombe di Savona in questo personaggio, nell'uomo che cammina, che lungo la storia noi iniziamo a conoscere gradualmente. Il libro si apre con un suo pensiero, poi pian piano, più andiamo avanti con la narrazione, più approfondiamo questo personaggio, più conosciamo l'identità di questo essere strano, di questo uomo che per ragioni misteriose, per obiettivi che lui decide per un determinato motivo, porta avanti questa battaglia, questa missione, non lo possiamo sapere. Cioè sia una battaglia contro lo Stato, una missione militare, un odio verso Savona, non lo sappiamo. A rispondere a questa domanda toccherà Pirandello, fondamentalmente è questo. Ora, il romanzo per fortuna purtroppo è uscito durante il Covid, praticamente ho avuto la bellissima fortuna di partire con la presentazione del romanzo più o meno la settimana del 9 di marzo, quindi quando Conte ha deciso di chiudere tutto. Quindi le presentazioni sono andate rilente, tutto un po'. E noto che è un peccato, perché ogni volta che mi interfaccio con il pubblico, ci sono sempre le domande, curiosità, persone, la cosa che mi stupisce sempre è che persone che c'erano mi dicono, ah ma cavolo hai ragione, quella bomba lì, eh sì, è successo, ma sei sicuro che è successo così? È una cosa che mi fa piacere e vedo che fa piacere alla persona che ho davanti, perché anche se purtroppo stiamo ricordando una pagina non felice di Savona, però le aiuta a ricordare. Allora, io praticamente ho iniziato a scrivere, assolutamente nel 2017. Sono figlio della flessibilità, quindi tre mesi da lavoro da una parte, sei mesi dall'altra, un anno da una parte. Attualmente lavoro come portinaio o guardone, come mi piacerebbe definirmi, e nello spazio libero, nel tempo libero purtroppo, tra un lavoro e l'altro, ho iniziato a sviluppare questa passione. Ho iniziato con alcuni racconti, garagliare su alcuni concorsi letterali nazionali, ho visto che riscontravo dei buoni risultati, piazzandomi generalmente tra i primi sei, oppure vincendo proprio alcuni premi elettorali. Questo mi ha portato a dire, ok, proviamo a fare lo scalino più alto, proviamo come un romanzo. Mi serviva un soggetto. Conoscevo la storia delle bombe di Savona per sentito dire, sì, vabbè, ho messo delle bombe di Savona, ma saranno due, tre, sono gli anni di piombo. Praticamente, chi non ha collezionato una bomba in quegli anni? Inizio così a vedere, magari ci butto giù un racconto, quindi inizio a indagare, dico, aspetta un attimo, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. dodici bombe a Savona. Perché? Cioè mi sono reso conto che c'era del materiale da utilizzare, non solo per un racconto, ma poi per un romanzo. E visto che io sono lavagnolese, vivo da Savona da sempre, ho scelto questa storia, perché era pieno delle mie corde, per il debutto, ho detto, aspetta, questa storia la conosco, voglio farla conoscere e ho modo di non dover andare, che non so, a Milano, New York per ambientarla. Ce l'ho qua, ce l'ho portata in mano, mi basta uscire, fare dieci passi e sono in via Paleocapa. Ho andato a vedere sui siti di tutte le bombe, infatti è stato tutto un lavoro di ricerca e tutto. Mentre lo facevo, ho impiegato anche lì, altra sorpresa, positiva e negativa. Inizio a lavorare al romanzo, in realtà dico, vabbè dai, ci sarà buon materiale, non c'era praticamente nulla. Ci sono due libri di testo, qualche dispensa, qualche articolo qua e là, ma di concreto non c'era nulla. Quindi mi sono dovuto mettere penna, computer, appunti, iniziare a ricostruire tutti i fatti raccontati da uno, dall'altro, passare ore in biblioteca, infatti non smetterò mai di ringraziare la biblioteca di Barili di Savona, perché ha in archivio tutti i quotidiani dell'epoca, che sono stati una fonte fondamentale. Io una scena, sono riuscito a dire che pioveva, perché pioveva realmente. Il giornale quel giorno mi diceva, ok, ci sono le previsioni del tempo e io sapevo che in quella scena lì potevamo far piovere, perché era vero. È stata un'esperienza devastante da un punto di vista di preparazione, ma gratificante, perché nel momento in cui inizia a buttare giù una storia, dici, ok, no, gira, gira, va tutto bene, ok, la finisce, ok, gira, ok, dobbiamo arrivare alla pubblicazione. Lì è sempre il tasto, la carta strana, poi dici, ok, ora a chi lo do? Però, personalmente il mio percorso è stato presentare il libro, l'idea del libro a varie case editrici e ci sono voluti mesi, perché giustamente in questo momento l'editoria non è che sia al massimo, purtroppo, e puntare su un esordiente che non sai se venderà 10, 100, 300 copie, non si può sapere. Se hai un nome conosciuto come Camilleri, Lucarelli, che sono due maestri della letteratura, vai sicuro, se ti chiami Bardon e Roberto non sai se venderai dei libri, quindi ho avuto i miei giusti rifiuti, varie case editrici, finché non mi sono imbattuto nella Seme Bianco. La Seme Bianco mi ha creduto nel progetto, la mia stessa signora Pescatori, che è stata la mia editor, nel momento in cui lavoravamo, ha detto, ma sì, ma alla fine chi è che hanno arrestato? Mi ha detto, no, guarda che non hanno arrestato nessuno. Questa cosa qua l'ha incentivata, ha detto, cavolo, nel senso, la storia è buona, nel senso, è bella. E la ringrazio perché grazie a lei siamo riusciti a scolpire il marmo e far uscire il prodotto che adesso si può trovare sia in libreria sia negli store online. Una cosa che, di nuovo, è strana, perché nel momento in cui sei uno scrittore, la gente dice, ok, va bene, scrivi, non scrivi, vabbè. Nel momento in cui diventi uno scrittore che pubblica e soprattutto non pubblica a pagamento inizia a essere visto un altro occhio. Un ragazzo recentemente mi ha detto, ma guarda, io non riesco a pubblicare, quasi quasi pubblico a pagamento. Io non te lo consiglio perché comunque sono soldi che escono e non hai la gratificazione che puoi avere nel momento in cui una casa editrice crede in te e arrivi da scrivere la prima riga sul computer a sullo scaffale il tuo libro. È un percorso difficile, difficilissimo. È un po' come dire, ora mi alleno per la maratona di New York e ogni giorno lavoro, lavoro, lavoro. Se si vuole prendere questa strada è l'unica soluzione, quella lì, non ci sono vie di mezzo. La soluzione unica è quella, se vuoi pubblicare un romanzo, se vuoi diventare o provare a raccontare la tua storia. La storia delle bombe purtroppo è stata dimenticata e mi sembra ingiusto. Il ruolo che sto cercando di portare avanti, anche purtroppo con le presentazioni che sono molto diminuite a causa del Covid, è di far conoscere questa storia, far conoscere la realtà dei fatti, di quello che è successo in quegli anni. Sia ai giovani, sia agli anziani, le persone proprio hanno dimenticato questa storia perché dicono che le bombe di Savona sono esattamente ferme a come ero io all'inizio di questa storia. Non hanno idea del fatto che queste bombe, in qualche modo, in varie teorie, sono collegate alla P2, sono collegate alla CIA, sono collegate all'Italicus, sono collegate a un'organizzazione armata, segreta, Gladio. E tu dici ma è Savona, non è possibile che tutte queste cose colleghino Savona, in realtà sì, o meglio. In realtà è una parola abbastanza generica perché la realtà giudiziaria noi non l'abbiamo. Ci sono delle teorie comprovate, comprovate, comprovata, però a giudizio finale dei giudici di dire, ok, il colpevole è l'uomo che cammina, lo ha fatto perché gliel'ha ordinato X o Y, l'ha fatto per ottenere il risultato Y, non l'abbiamo. Ed è questo il problema. Le bombe di Savona hanno mille ipotesi, ma nessuna di queste porta a, ok, allora sappiamo il colpevole è questo. Il mio compito, quello che cerco di fare è questo, di dire ok ragazzi, sì, c'è questa teoria. Recentemente, nell'ultima presentazione, sono venute fuori delle teorie per quanto riguarda il profilo americano, il profilo della CIA. Hanno detto sì, hai ragione, c'è anche questa ipotesi. Però, anche se sembra fantascientifico, sembrerebbe che da qualche parte, in un fascicolo coperto dalla polvere, una riga, in un faldone, si sia scritto Savona qualcosa. Se è vero o che sia falso, non lo sappiamo. È una teoria. Con il libro io affronto tutte queste cose qua. L'uomo che cammina cerca di affrontare tutte queste teorie, o almeno quelle che personalmente ritengo più valide. La cosa che spero è che questo libro generi una sorta di sassolino nello stagno. Io ho lanciato il sassolino e piano piano le onde, allargandosi, che qualcuno magari legge il mio romanzo e dice aspetta, ma adesso mi vado a vedere questo romanzo, mi vado a leggere questo saggio, aspetta, andiamo a indagare quest'altra cosa qua. Mi piacerebbe che, chiamiamoli giovani, ragazzi un po' più giovani di me, riescano a conoscere questa storia e magari ad approfondirla, imparare magari un'attesa di laurea, un'attesina per le superiori. Quello che vogliono. Io, per quanto posso, mi metto a disposizione di chiunque in qualunque momento. Per fare questo lavoro qua ho fatto una scelta un po' da agente segreto. Non l'ho mai detto a qualcuno che stavo scrivendo questo romanzo qua. Infatti molte persone mi parlavano delle bombe di Savona e io ho detto, ah ma le bombe di Savona, ma cosa è il coro? E mi davano le informazioni naturalmente, proprio come se fossimo al bar. Ed è una cosa che personalmente mi è piaciuta molto, perché nel momento in cui io avessi detto, ah ok, guarda, sto scrivendo un libro. Non sapevo cosa avrei avuto dall'altra parte. Io volevo una reazione naturale. Quello che ho ottenuto mi è piaciuto molto. Io mi ricordo una vecchietta che ho incontrato, che abitava vicino alla la vittima, che ci siamo messi a chiacchierare così. Ma le bombe qui, c'era la signora che è mancata, eh, bellisci. Proprio in dialetto. Proprio è stato proprio bello. Mi raccontava di questa cosa qua. No ma guarda, secondo me, in realtà, guarda, non è vero, volevano colpire la ferrovia. No, no, no. Quella bomba lì. È stato un contatto, un rapporto, non scrittore tester. È stato umano. È una cosa che in quel momento ho voluto fare e mi è piaciuto. Secondo me è stato anche molto più sincero, molto più onesto. Nella mia ricerca, tolti ovviamente le persone che ne sapevano perché ci avevano scritti, diciamo, dei civili, per così definire, se dovessi stilare una classifica, c'è una vecchietta che si ricordava solo sei bombe su dodici. E questo già mi dava l'idea di dire, cavo, ma non è possibile che dodici esplosioni e se ne ricordano solo sei. Questo mi fa capire che ho un motivo in più. Io devo raccontare questa storia perché se la persona che si ricorda più bombe, senza aver fatto ricerca, senza fare niente, se ne ricorda solo sei. Questo vuol dire che ci sono altre sei bombe, sei attentati potenzialmente mortali, che sono caduti nel dimenticatoio e personalmente non lo ritengo giusto. Cioè Savona è stata bombardata. Per farci capire, per arrivare a un paragone del quantitativo di bombe che sono scoppiate a Savona, dobbiamo arrivare all'Isis, mi sembra 2017, in tutta Europa. Qui invece abbiamo dolci bombe scoppiate tra Varad e Vado nel giro di un anno. Cioè, non dico che siamo stati bombardati, ma quasi. Molti ritengono che Savona sia stato un esperimento, e forse lo è stato. E alcuni dicono che sia stato un esperimento fallito? Secondo me no. Secondo me è stato un esperimento, che poi il risultato non sia piaciuto a chi ha voluto fare questo esperimento, ho conto, ma secondo me l'esperimento un risultato gliel'ha dato a chiunque, se questo fosse stato un esperimento. E uno dei risultati di cui io sono orgoglioso di essere Savonese è stata la risposta della città. Cioè, dopo la terza bomba, Savona, col massimo rispetto per le autorità, che anche se purtroppo le indagini andavano in piano, si sono messe in gioco, hanno detto ok, ragazzi, noi non vogliamo farci bombardare in casa. Cosa facciamo? Come possiamo agire? Ed è così che sono nate le ronde. Cioè, per la prima volta, forse, nella storia italiana, una città sia organizzata automaticamente, autonomamente, per raggiungere uno scopo comune, che non è l'aumento dei salari, la protesta contro lo Stato. No, esatto, qui ci stanno bombardando, noi dobbiamo difenderci. Quindi, ogni volta che si scopreva una bomba, c'era una manifestazione di massa. Quindi tu trovavi migliaia, centinaia di persone in piazza, che girava per Savona, di notte c'erano le ronde. Si è creato un sistema in cui, 24 su 24, tu vedevi le persone girare per Savona per controllare i portoni, i cancelli, le scuole. Cioè, un movimento nato dal basso, non da un partito, da chi che sia, proprio dal basso, dal cittadino, dall'uomo della strada. E io sono orgoglioso che Savona abbia risposto così, che abbia dimostrato il coraggio di dire, noi non abbassiamo la testa, noi impediremo che queste bombe esplodano. Poi le bombe sono esplose e la storia racconta quello che è successo. Però non siamo rimasti passivi, ci abbiamo provato a combattere questo uomo che cammina. In casa, in famiglia, ovviamente mi vedevano, mi vedevano un patto scriteriato che scriveva per giorni e giorni e giorni, sapevano del progetto. Quindi erano anche incuriositi e man mano che io chiedevo informazioni, loro approfondivano con me. Quindi diciamo che l'ambito familiare in casa, la cosa era già risaputa, pochissimi ricordi anche in famiglia. Praticamente il problema di queste bombe è stato che sono scoppiate. Poi, buco nero, fino a pochi anni fa in cui sono iniziati a uscire i primi libri. Però ancora adesso, se io mi fermo a Savone e dico bene, dov'è il cibo commemorativo della vittima? E l'ho fatto. 8 persone su 10 non sapevano dov'era. Praticamente mi dicevano, ah no, è in piazza Sisto, oh no, 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 ule, ule in, da prolungamento. Non è in nessuno di questi posti. È in un punto che personalmente è dimenticato, è praticamente tra un condominio e un frutto e verdure dove si porti a spasso i cani e in quella piazza lì, tranne la nipote che la tiene in ordine, non viene organizzata, nulla. Immaginerei che il giorno dell'anniversario è una piccola manifestazione, non dico tanto, una memorazione di 10 minuti. Purtroppo, no, il perché non si è ricordato, il perché si è dimenticato è un altro mistero di questa storia. Alcuni risponderebbero a questa domanda dicendo, eh ma sai, non ne parlano perché c'erano nomi importanti in ballo. Forse anche quello, forse il potere della politica, della magistratura hanno voluto che questa storia si dimenticasse. Non lo so, però la realtà dei fatti è che a parte il mio romanzo e altri romanzi, altri due, tre sagli e qualche prodotto di qualche studente di Savona e delle bombe non si sa nulla.